allora azzurra buongiorno senti ma com'è la storia stamattina non ti vuoi alzare stai bene nella tua cucchettina ma è che dice ti pare giusto che io mi devo alzare per andare al lavoro e tu continuerai a dormire nel tuo bel cesto cestone cestino cattivona è solo io mi devo alzare tu no buongiorno buongiorno ci 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 e allora che facciamo continuiamo a dormire buongiorno buongiorno ci 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 va bene tesoro ciao ciao va bene ciao buongiorno allora continuiamo a dormire va bene allora continuiamo a dormire buona giornata ciao Grazie.